Oggi siamo in un posto veramente magico, ci sono 40 gradi ma pazienza, siamo appunto nel forte di Puranacila e questo forte fu costruito da Sher Sharsuri nel XVI secolo nel corso del suo breve interregno. Infatti pare che tutta quest'area appartenesse all'imperatore Umayun della dinastia Mogul e secondo quello che riporta il sito dell'archeological survey of India, quest'area era l'antica città di Dipanna che fu appunto ricostruita dopo che Sher Sharsuri aveva raso al suolo tutto quanto. Gli archeologi sono interessati moltissimo a quest'area perché sono convinti che sotto le costruzioni medievali dell'impero Mogul, sotto costruzioni ancora più antiche che sono state rinvenute, si trovi la mitica città di Indraprasta che è la città narrata nel grande poema epico il Mahabharata che racconta appunto secondo la tradizione indiana eventi che riguardano la storia dell'India risalenti a almeno 5.000 anni fa. Il Mahabharata è il più antico poema epico della storia indiana e racconta la storia della guerra e delle vicissitudini che interessarono due famiglie tra loro imparentate, i Pandava e i Kaurava. Secondo la tradizione questi eventi avrebbero avuto luogo realmente in un passato estremamente lontano. Il testo è considerato un itiasa, ovvero basato su fatti reali. Generalmente la guerra descritta viene collocata in un periodo di tempo tra il XIII o il XIV secolo avanti Cristo. Negli ultimi decenni però molti studiosi hanno analizzato gli eventi astronomici descritti nel Mahabharata, quali eclissi e congiunzioni planetarie, datando i fatti descritti intorno al 3100 avanti Cristo circa. Datazione che collima con la morte del dio Krishna descritto nel poema è collocata appunto nel 3102 avanti Cristo e che avrebbe dato inizio al Kali Yuga, l'epoca attuale. Come la maggior parte della letteratura indiana antica, anche il Mahabharata veniva trasmesso oralmente di generazione in generazione. Questo ha reso particolarmente facile l'interpolazione di storie e episodi addizionali all'interno del testo. Una tra le tante è la Bhagavad Gita, inserita al suo interno nel III secolo avanti Cristo circa. Per il Mahabharata si parla anche di variazioni locali, sviluppatesi in regioni diverse. Comunque, nella maggior parte dei casi, le modifiche sono consistite in ulteriori aggiunti e non in alterazioni della storia originale. La tradizione induista data la guerra intorno al 3124 avanti Cristo. Il Mahabharata inoltre è considerato non solo un resoconto storico, ma anche un codice etico e religioso per i fedeli induisti. È diviso in due libri di oltre centomila versi e per un totale di circa un milione e ottocentomila parole. È circa dieci volte per capirsi più lungo dell'idiade. Si narra che il poema sia opera del saggio Vyasa, che include se stesso tra i più importanti personaggi del racconto. La prima parte del Mahabharata dichiara che fu il dio Ganesha, su richiesta di Vyasa, a scrivere il poema sotto sua dettatura. Ganesha consentì, ma solo alla condizione, che Vyasa recitasse il poema ininterrottamente, senza alcuna pausa. Il saggio allora pose a propria volta un'ulteriore condizione. Ganesha avrebbe non solo dovuto scrivere, ma comprendere tutto ciò che udiva ancora prima di scriverlo. In questo modo Vyasa avrebbe potuto riprendersi un poco dal suo continuo parlare, semplicemente recitando un verso difficile da capire. A questa situazione fa riferimento anche una delle storie che spiegano il modo in cui il dio Ganesha si ruppe la zanna sinistra. Nella foga della scrittura il suo pennino si ruppe ed egli si spezzò una zanna e la usò come pennino affinché la trascrizione potesse andare avanti senza interruzioni, così da permettergli di mantenere la parola data. La narrazione principale segue i cinque figli del defunto re Pandu i Pandava e i cento figli del re cieco Dhritarashtra i Kaurava, che iniziano una guerra che nel testo è raccontata nei suoi ultimi 18 giorni e che era incentrata nel possesso dell'antico regno di Bharata sul fiume Gange, nell'India centro-settentrionale. La figura principale dell'epica è il dio Krishna. Sebbene Krishna sia imparentato sia con Pandu che con Dhritarashtra, è ansioso di vedere scoppiare la guerra tra i due clan e considera i figli di Pandu come i suoi strumenti umani per adempiere a tale scopo. Tutto inizia durante una partita a dadi, ma il gioco è truccato a favore di Dhritarashtra e il clan Pandu perde, accettando di trascorrere 13 anni in esilio. Quando il periodo di esilio finì e i Pandava poterono ritornare alle loro terre, scoprirono che i loro rivali non erano minimamente disposti a condividere il potere. Di conseguenza scoppiò la guerra. Dopo anni di violenti conflitti, in cui entrambi le parti commisero numerose atrocità, i Pandava emergono finalmente vincitori. La battaglia di Kurukshetra, che la cronologia tradizionale induista colloca a cavallo tra il 3139 e il 3138 a.C., infervora per 18 giorni. Qui i Kaurava vengono sconfitti e trovano infine la morte. Molteplici sottotrame si intrecciano in tutto il testo epico, seguendo i numerosi personaggi, mentre perseguono i propri programmi, lottano con dilemmi etici e filosofici ed entrano in conflitto tra di loro. Nel poema epico incontriamo anche diverse donne, tra cui Draupadi, figura eroica capace di affrontare molte infelicità e considerata un simbolo di forza e indipendenza femminile. Le sue virtù non sono inferiori a quelle degli eroi uomini guerrieri. Il Mahabharata sembra poi insegnare proporre molti dei suoi concetti più importanti attraverso dei paradossi, in modo da portare il lettore a non leggere semplicemente una storia, ma anche e soprattutto a comprenderne i contenuti sottesi. Proprio in questo ambito si collocano alcune delle più importanti narrazioni che solo in tempi recenti sono state seriamente prese in considerazione sia da studiosi indiani che stranieri. All'interno delle pagine di questo incredibile testo sembrano infatti essere stati celati una serie di concetti e soprattutto conoscenze del tutto fuori dal tempo per l'epoca, in cui il testo fu scritto, ma soprattutto inimmaginabili in alcuni casi fino a tempi molto recenti. Il poema epico ci presenta infatti la descrizione anche molto dettagliata di velivoli chiamati Vimana, in grado di volare nella nostra atmosfera e nello spazio, considerato nell'induismo estremamente vasto e soprattutto abitato. Allo stesso modo la nascita dei cento fratelli gemelli Kaurava è descritta identificandola come una vera e propria gestazione extraterriterina, al punto tale che lo stesso primo ministro indiano Narendra Moody alcuni anni fa ebbe modo di sottolineare come la ricerca genetica e sui feti fossi in India antica migliaia di anni. Questi dati lasciano trasparire una conoscenza segreta contenuta in molti antichi test indiani e che solo oggi sta lentamente ritornando alla luce. Lo scontro tra i due schieramenti di cugini, i Pandava e Kaurava, rappresenta nell'intenzione dell'epica un vero e proprio scontro tra il bene e il male. I Pandava, guidati da Yudhishtira, figlio del dio Dharma, sono i campioni del bene e della giustizia, mentre i Kaurava, guidati da Arduryodhana, qui inteso come incarnazione del demone Kali, rappresentano il male e la condotta iniqua. Il testo raccoglie pagine memorabili sia sul piano epico che narrativo, quanto in quelle dell'etica e del trascendente tipiche delle filosofie indiane. Il Mahabharata è tra le opere capitali della letteratura di ogni tempo. Dentro la vicenda epica che ne costituisce il fulcro si instaurano narrazioni mitiche, secondarie, genealogie divine ed umane, trattazioni teologiche, filosofiche, etiche, geografiche, scientifiche e perfino frammenti di enigmistica. Il nucleo della sua riflessione è il Dharma, la legge sacra o l'ordine cosmico, a cui tutti umani e divinità devono asservirsi. Il tema principale del Mahabharata è infatti l'idea del sacro dovere. Ogni personaggio dell'epopea nasce in un particolare gruppo sociale o casta che deve seguire il dovere che gli è prescritto dalla legge sacra. I personaggi che svolgono il loro dovere vengono premiati, mentre quelli che non lo fanno saranno puniti. Questa è la grande lezione che Krishna dona ad Arjuna quando inizia a dubitare del suo ruolo nella battaglia. Obbedire al proprio dovere è un pilastro fondamentale della religione induista. Non ultimo nel testo si trova la prima vera codificazione della disciplina dello yoga, donata sempre dal dio Krishna ad Arjuna nella Bhagavad Gita. Il Mahabharata si struttura quindi come un poema senza tempo, un'opera universale che nonostante la sua vastissima lunghezza ancora oggi fonte di ispirazione per milioni di individui in tutto il pianeta. Le sue pagine sono colme di insegnamenti e conoscenze, così come di precetti e regole non solo religiose ma anche e soprattutto morali ed etiche che ancora oggi costituiscono un aiuto per ogni individuo che voglia indagare la propria anima.